A quest'ora, quando una donna rimase da sola al telaio e gli altri se ne erano andati, uno spaventoso fantasma apparve mentre era seduta, afferrando la donna e trascinandola via. Lei gridiò e pianse quando vide che non c'era nessuno ad aiutarla, ma comunque provò a porre una fiera resistenza. Dopo due o tre ore, le altre donne tornarono e la trovarono mezza morta e incapace di parlare. Tuttavia faceva ancora dei segni con la mano, ma gli altri non capivano cosa intendesse. Il fantasma che le era apparso attaccò anche tante altre persone, costringendo tutti ad abbandonare la casa. In due o tre mesi, la donna venne alla chiesa e riuscì a recuperare la parola. In tal modo, raccontò con la sua stessa bocca cosa le era successo.